Conte? Signora, sono lieto per il caso che permette di essere soli. Perché prima di liberare il tecnicamente della mia presenza, avrei qualcosa che... Se non parlate... Qualcosa che cerchiamo di dirvi con buona grazia. Buona sorella, signori! Davvero? Il nome della Padre! Vostri migliori devono rimanere in Ponte Veto. Non so che farci, ma il quale mi raccomando. Mi proibisco di scusare Alessio. Ma io, Alessio, non penso neanche che non era lì. Ma voi la facete per il chiosco? Chiosco? Certo! Il chiosco dove eravate più sentimamente con Alessio. E dove, lasciatemi dire, vi siete comportati incrediamente. Capiato, Alessio, il ponte, dite generosamente, non impegnamente. Ho capisco! Generosamente perché del chiosco, che bene ve lo dico, ho salvato una vita. Ho preso il suo posto, facendo così di credito il palito. Voi avete fatto questo? Ma allora, non ci sono gli ostacoli? Più, ostacoli. Ma certo, non mi ha visto, migliori gli ostacoli. Ma allora, non mi ha visto, migliori gli ostacoli. Ma allora, non ci sono gli ostacoli? Ma allora, non mi ha visto, migliori gli ostacoli. Ma allora, non mi ha visto, migliori gli ostacoli. Ma allora, non ci sono gli ostacoli? Ma allora, non ci sono gli ostacoli? Ma allora, non ci sono gli ostacoli? Grazie. 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 Grazie.